Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi ti voglio parlare di truffe su ebay e come evitarle sia che tu vendi o sia che tu acquisti su ebay, quindi resta con me Se non mi conosci parlo di e-commerce, dropshipping e finanza personale Prima di procedere e a spiegarti come evitare le maggiori truffe su ebay quando vendi o quando acquisti e perché è importante sapere determinate cose, ti chiedo di mettere like al video e iscriverti al canale perché questo è molto importante per l'algoritmo di youtube e per portarmi a crescere e a farmi conoscere da più persone Grazie per il tuo aiuto e ora procediamo Oggi ho deciso di parlare di truffe e soprattutto di truffe su ebay perché è un argomento che ho visto che nessuno tratta però è molto importante In America l'anno scorso l'e-commerce online ha venduto circa 630 miliardi di dollari Di questi 630 miliardi di dollari, 13 miliardi sono svaniti nelle truffe, nelle froti Se ci pensiamo è il 2% più o meno delle vendite totali online Quindi è un dato molto importante e da non trascurare Se tu vendi online o venderai online su ebay o su qualsiasi altro posto Sicuramente ti capiterà di avere a che fare con i classici frotatori Cioè le persone che cercheranno di truffarti e tenersi l'oggetto gratuitamente o truffarti in altri modi Questo ti può capitare anche se tu acquisti se sei un acquilente e capiti in un venditore o disonesti Oggi affrontiamo quindi alcuni punti cruciali di come evitare queste truffe Sia che tu sia un venditore sia che tu sia un acquilente Ma cominciamo subito come venditore Se vendi su ebay la prima cosa che devi fare ovviamente mi sembra spontaneo ma lo dico Perché magari alcuni potrebbero rascurarla Sono i trading numbers, i codici di tracciabilità Quando vendi un oggetto inserisci sempre un codice di tracciabilità In modo che quando l'oggetto sarà consegnato c'è la prova di consegna e la firma dell'acquirente Così se l'acquirente reclama che non ha ricevuto l'oggetto tu hai la prova E puoi vincere la casistica, la controversia a tuo favore E non rimetterci i soldi e nemmeno l'oggetto Questa truffa, questo di reclamare che non si è ricevuto l'oggetto Si è ricevuto l'oggetto sbagliato è molto diffusa Per quanto riguarda la diffusione dei mercati Voglio aprire una parentesi perché magari si è portati a pensare che in Italia Sia un paese molto disonesto Un paese dove si capitano maggiormente questi eventi Invece di Dio devi stare attento in America E in America dove ovviamente in tutti i paesi capitano, ci sono Ma in America c'è un ammontare di queste resisti è molto più elevato Perché? Perché l'America è la patria dell'e-commerce, la patria del customer care Il customer care che c'è in America, basta pensare a aziende come Amazon, Walmart Che danno il massimo per soddisfare il cliente Ha portato l'utenza americana ad avere determinati standard di servizio, di assistenza Quindi quando questi standard sono così elevati Ovviamente ci saranno le persone pronte a sfruttarli Quindi in America sono molto più diffuse perché sono abituati ad avere a che fare con grosse multinazionali Con grosse aziende che preferiscono rimettere soldi ma fare contenti sempre clienti Quindi inserisci sempre il tracking number Seconda cosa, quando un acquirente compra da te, ma se è un venditore su ebay Guarda sempre i feedback dell'acquirente Controlla le statistiche, controlla se ci sono dati strani come indirizzi, nomi strani Dati che possono sembrare sospetti Non fidarti troppo degli acquirenti a zero feedback o un feedback o due feedback Non dico che non devi vendere a loro però magari io non venderei un orologio a 900 euro Un acquirente con zero feedback o un feedback Perché basta anche ragionare Una persona che ha zero feedback o un feedback non conosce la piattaforma Tranne rari casi dove siano multi-accounts Difficilmente andrà a comprare un orologio da 800 euro, un cellulare a 600 euro su ebay Su una piattaforma che non conosce Quindi già questo ti deve fare esorgere dei sospetti Sugli acquirenti a zero feedback o un feedback Ovviamente se vendi penne da 5 euro Penso che sia anche legittimo Quando qualcuno inizia a comprare e non avere feedback Però sono tutta una serie di cose che dovresti tenere in considerazione Una cosa molto importante da venditore Che non devi mai fare, mai fare È dare i codici seriali o codici email dei dispositivi Se vendi un computer, se vendi un telefono, se vendi dispositivi elettronici Non dare mai i codici seriali Mai Se vendi su ebay questo ti capiterà tantissimo Le persone ti dicono mi dai il codice seriale così controllo E ti dicono qualsiasi scusa Magari parte di loro è legittima ma la maggior parte no Perché i codici seriali si possono utilizzare per fare delle frodi Per fare delle proof Non sto a spiegare però i motivi nei dettagli Qui come vengono utilizzati Per ti chiedo di fidarti a me e non dare mai i codici seriali Anche perché non c'è motivo Se sei un venditore professionale la garanzia viene properta da te Se il dispositivo è nuovo la garanzia viene properta dal produttore o dal reseller Quindi non c'è motivo di lasciare i codici seriali Nemmeno nei negozi fisici trovi i codici seriali Tranne rari casi ma solitamente sono messi in marezzino e non è accesso C'è un motivo I registri seriali possono essere utilizzati a fine di frode A fine di truffe Quindi non darli mai Ultimo punto come venditore Per passiamo alla parte acquidente È quello di imparare come gestire i processori di pagamento I processori di pagamento come Paypal, Stripe Su Checkout e tutti gli altri Sono argomenti che io tratto spesso nel mio canale Se non hai visto i miei video dedicati a Paypal Ti lascio in descrizione E qua nella scheda che si aprirà Perché dico imparare i gestori di pagamento Imparare i gestori di pagamento Cosa c'entra con le truffe? C'entra perché quando un acquidente vuole truffarti aprirà una controversia Prima su eBay Poi su Paypal Quindi dovrai gestire i processori di pagamento Per risolverla a tuo favore Ovviamente se hai ragione Cosa puoi fare? Imparare i termini e condizioni del processo di pagamento come Paypal Leggiteli in dettaglio Vedi come funziona In quale caso l'acquirente ha ragione In quale caso il venditore ha ragione In questo modo potrai farti un'idea Se un acquidente ti apre una controversia Oltre a dare le prove Scrivi per 10-15 minuti A scrivere una lettera dettagliata della resistita Perché il tuo caso verrà rivisto manualmente Ci sarà un operatore là dietro Un operatore che avrà la responsabilità di decidere A chi vanno questi soldi Quindi ne vale la reputazione della compagnia Quindi guarderà attentamente con il successo Dai i più dettagli possibili Spiega perché l'acquirente sta cercando di truffarti Spiega perché tu sei legittimo Dai i più dettagli Dai le più prove possibili Questo non si limita a call tracking number Se hai quota, se hai quota del prodotto Qualsiasi cosa Ci sarà un operatore che controlla Quindi più informazioni dai meglio è Se vuoi sapermi più sui processi di pagamento Mi puoi contattare via email Trovo la mia mail in descrizione Sono sempre disposto Oppure mi puoi contattare su Instagram Trovo tutto in descrizione Passiamo ora alla parte acquirente Se acquisti su eBay Cosa puoi fare per evitare le truffe Prima cosa Vuoi specificare se l'acquirente è più sicuro rispetto al venditore Perché i processi di pagamento delle piattaforme Sono più inclini ad aiutare degli acquirenti Quindi troveranno sempre delle soluzioni per te Alle volte possono anche decidere di rimborsarti loro Con la propria tasca Quindi dare i soldi al venditore E rimborsarti dal loro fondocassa a te come acquirente Quindi puoi stare abbastanza tranquillo come acquirente Però questo non significa che i venditori non possono truffarti Anche se è più difficile rispetto a qualche anno fa È ancora possibile Quindi la prima cosa per fare È controllare sempre i feedback del venditore Assicurati che siano feedback venditori Perché eBay mette i feedback da acquirente e da venditore Tutti nella stessa colonna Quindi vai nel dettaglio In base alla merce che stai acquistando Quanto valore ha Fai uno studio approfondito Vai a vedere i feedback Se sono feedback da venditore o da acquirente Perché io posso anche essere un acquirente Fare 80 acquisti inutili E poi fare una vendita Deve risultare che io ho 80 feedback positivi Ma in realtà sono feedback da acquirente Non da venditore Quindi vedi bene che tipo di feedback sono Controlla quanta merce ha in vendita Perché ovviamente un venditore con più merce in vendita C'è più probabilità che sia un venditore serio Una azienda seria E sarà meno incline a darti problemi Controlla la località di spedizione Perché ovviamente ci sono località di spedizione Che sono sospette Per esempio la Cina Non è sospetta Però sicuramente la qualità potrebbe non essere cessa Questo può essere causato dai dropshipper Che sferiscono alla Cina O semplicemente aziende cinesi Che piazzano qualunque cosa su eBay Ovviamente ti può arrivare prodotto di scassa qualità Questo significa che lo puoi restituire Sì ma la cosa diventa complicata Perché poi devi restituirlo in Cina O comunque devi interfacciarti con un venditore Che non ha interesse ad aiutarti Nella maggior parte dei casi Terza e ultima cosa da acquirente Utilizza i metodi di pagamento a doppia barriera Cosa vuol dire? Quello che molte persone non sanno Qua in Italia Perché all'estero è molto più diffuso Sono che le carte di credito Il Bancomat Le carte delle parate Comunque il circuito Mastercard Visa American Express Diners JB Tutti i circuiti di pagamento Ti danno una garanzia Come cliente Come utilizzatore di carta Tu se hai un problema Puoi aprire un Si chiama in inglese chargeback Oppure in italiano contestazione di pagamento Significa che se io vengo truffato Un acquisto è illecito O una frode nella carta di credito Io chiamo l'America Express Chiamo il mio istituto di credito Reclamo Faccio questa contestazione di pagamento E loro indagano E possono rimbossarmi la cifra Quindi io già quanto pago con la carta Sono protetto Per più informazioni Vai su tuo istituto di pagamento Ci saranno i numeri Ci saranno pagine web dedicate Con doppia barriera Intendo quindi utilizzare La carta di credito Se è possibile Un Bancomat La carta di credito Dà più protezione E poi utilizzare Un processo di pagamento E ti dia Altra garanzia a cliente Per esempio Paypal Quindi invece di utilizzare La carta di credito E mettere la retenda In checkout Utilizza la carta di credito Allegata con Paypal E Paypal Allegato con Ebay Questo avrai Non doppia protezione Ma tre protezioni Perché avrai Assistenza a cliente Ebay Quindi se hai un problema Apri la contestazione Prima di tutto Con Ebay Se Ebay te la rifiuta Ma tu pensi di avere ragione Puoi aprire la contestazione Con Paypal Quindi puoi Hai nuova possibilità Di riavere Ciò che è tuo Se Paypal Non ti aiuta Hai la terza opzione Che aprire la contestazione Di pagamento Con la carta di credito Con il Bancomat O comunque Con l'istituto di credito Questa Queste barriere Più barriere Aggiungi nel tuo pagamento Più aziende hai Che possono aiutarti Questo è Molto importante Quando acquisti Soprattutto Cette cifre Per esempio Io se dovesse acquistare 1000 euro Di oggetto Di telefono Di orologio Preferirei avere Tripla protezione Quindi non utilizzare Solo la carta di credito Magari su un negozio Shopify Ma spendere 10 euro In più 50 euro in più Su Ebay Ma avere la protezione Della mia carta di credito La protezione di Paypal E poi la protezione Di Ebay Questo mi da Molta più sicurezza Bene ragazzi Spero il mio video Vi abbia dato più informazioni Utili possibili Se ti è stato d'aiuto Ti invito a mettere like Mettere il pollice in su Su youtube E iscriviti al canale Così che possiamo crescere Mi voglio affrontare Sempre più video E darti sempre più informazioni Grazie per essere rimasto Con me anche oggi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao